Soe Il Stasi è pronta per vivere l'avventura da naufraga. L'ex corteggiatrice sbarcherà in Honduras durante la puntata dell'Isola dei Famosi che andrà in onda domani, domenica 9 febbraio Prima di lasciare tutti e cominciare la sua esperienza, l'ex fidanzata di Marco Cartasegna, ha pubblicato un messaggio sui social per salutare tutti i suoi followers e annunciare che ce ammetterà tutta per arrivare fino in fondo Volevo dirvi innanzitutto che sto bene e anzi come avrete visto sto per sbarcare sull'Isola dei Famosi in Honduras Scrive l'ex corteggiatrice che, durante la sua assenza, ha affidato i suoi profili social al suo staff Vi parlo per mezzo del mio staff al quale ho lasciato tutte le mie cose in Italia pregandoli di rendervi partecipi tutti con questo messaggio delle mie grandi emozioni Mi leggete che forse sarò già coi pensieri tra le nuvole e l'Atlantico sotto i piedi È stato difficilissimo non dirvi nulla ma ci sono più carica che mai per questa nuova avventura La sorge, poi, conclude così il suo messaggio, vi porto tutti con me, mi mancherete da morire A presto Family, scrive la sorge.Ariadina Romero sbarca in Honduras.L'Isola dei Famosi 2019 tornerà in onda domenica 10 febbraio, in prima serata su Canale 5 Dopo Stefano Bettarini e Joe Squillo, in Honduras sbarcheranno altri due naufraghi il cui compito è animare la situazione e creare dinamiche interessanti che, finora, sono mancate Un'impresa ardua che è stata affidata a Jeremiah Rodriguez e Soe e il Stasi che hanno un carattere molto vivace e fumantino I due, tuttavia, non saranno gli unici a sbarcare in Honduras nella prossima ora Secondo quanto riferisce il Portebici, infatti, pare che il cast di L'Isola sarà arritito anche dall'arrivo di Ariadina Romero, famosa per aver recitato nel film di Leonardo Pieraccioni, finalmente la felicità è per aver partecipato come concorrente a Pechino Express, in coppia con Francesca Fioretti e a Ballando con le stelle Ariadina Romero è stata fidanzata con l'ex velino di Striscia La Notizia, Pierpaolo Pretelli da cui ha avuto un figlio . Geremia Rodriguez all'Isola dei Famosi 2019, le parole della sorella Cecilia Geremia Rodriguez ha voluto partecipare a tutti i costi all'Isola dei Famosi 2019 e, dopo aver superato una frattura alla mano che ha ritardato la sua partenza, è finalmente pronto per sbarcare in Honduras per seguire le orme delle sorelle da Lene Cecilia, naufragl prima di lui . In vista della nuova avventura del fratello, Cecilia che ha condiviso con lui l'esperienza nella casa del grande fratello Vip, gli ha scritto un lungo messaggio per augurargli nuona fortuna . Dove tu vorrai trovarmi, mi troverai? Chiudi soltanto gli occhi e pensa a tutto quello che ti ho detto, scrive l'Argentina su Instagram . Io sono sempre con te, e non ci sarà un momento nel quale io non sarò davanti alla tv a guardarti e a tifare per te . Sei il padrone, non dimenticarlo mai! Ti amo con tutto il cuore! Iscriviti per non perdere le novità, grazie per il like